Aveva 56 anni. Appena 21enne fondò la Apple insieme a Steve Wozniak e da quel momento cambiò il modo di pensare la tecnologia. La notizia è arrivata alle 19.30 di ieri, l'una e 30 ore italiana, facendo il giro del mondo. La sua carriera, di oltre 30 anni, ha visto il genio visionario di Steve Jobs gettare le basi dell'industria dell'i-tech, insieme con altri personaggi del calibro di Bill Gates e Larry Ellison, rispettivamente fondatori di Microsoft e Oracle. Aveva incassato in questi ultimi tempi numerosi successi, dal rilancio dei computer Macintosh, al mondo degli iPod, iPhone, iPad. Aveva lasciato il timone di Apple lo scorso 24 agosto, con una lettera in cui designava il suo successore, Tim Cook. Con lui è stata rivoluzionata un'epoca.